Ciao amici del paranormale, benvenuti in un nuovo video, in questo video vedrete i 5 video più inquietanti di sempre, ma prima di iniziare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessun video, detto questo possiamo iniziare. No, no, no. No, no. che era questo? no 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 quando l'uomo si sveglia decide di controllare cosa sta succedendo nel suo appartamento mentre registra con il suo telefono entra nella stanza accanto dietro l'angolo a destra nota un misterioso viso pallido che lo spaventa completamente chi o cosa era la figura scompare senza lasciare traccia il seguente video è stato visto da un uomo che stava passando con la sua auto su una strada solitaria e buia all'improvviso dall'interno della sua auto ha visto chiaramente una strana figura con una veste bianca sembrava camminare un po' lentamente ed era proprio di fronte a lui quest'uomo era spaventato a vedere questa figura e ha deciso di tornare indietro la figura che vede ha una veste bianca e cammina molto lentamente in un momento in cui guarda la macchina puoi vedere che la figura ha i capelli neri ed è una donna fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate quest'uomo per noia decide di fare un rituale dentro casa sua all'improvviso evoca un demone che gli spunta dietro la porta di vetro l'uomo è traumatizzato non crede a ciò che vede vanno! una vez per torua materializzate! oh hijo di su pinca madre! eso! masimero materializzate come ti chama! come ti chama? come ti chama? come ti chama? mummè! mummè! non 반�antiche non vanno non pulang aja l'agis ya saya pulang aja ya maan-an-an ya di Anco, asum! Ehi! Ma? Paget yang putin, Ma? Paget yang putin, Ma? Paget yang putin, Ma? Hati-hati che lo po, Ma? Ma! Ma! Eh, hati-hati che lo po, Ma! Ma! Ma? Ico! Quest'uomo sta in campagna, e decide di controllare se andava tutto a posto. All'improvviso l'uomo vede una signora anziana con il bastone. L'uomo preso dal panico scappa via. Non so se crederci o meno questo accaduto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questo gruppo di youtuber decide di fare una indagine paranormale. All'improvviso, la porta incomincia a muoversi. Quindi uno dei ragazzi decide di dare un'occhiata. Poi i ragazzi si dirigono verso l'entrata del casolare e all'improvviso. Poi i ragazzi si dirigono verso l'entrata del casolare e all'improvviso. Poi i ragazzi! Bene ragazzi il video finisce qui. Io spero che il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana. Noi ci vediamo la prossima! Noi ci vediamo la prossima!